Prima tappa italiana del Tour Wildlife Photographer of the Year, il premio del Natural History Museum di Londra dedicato alla natura selvaggia. Alla fortezza di Barden, Val d'Aosta, fino al 2 giugno sono ospitate le oltre 100 foto vincitrici dell'edizione 2013. Per l'edizione 2014, con la quale si festeggeranno anche i 50 anni del premio, le iscrizioni sono invece aperte fino al 27 febbraio.